Torniamo ad occuparci di parchi tematici, questa volta risaliamo alla costa, andiamo a Mirabilandia che si dà all'ecologia, in particolare nel servizio di Marcello Bartolini. Un parco sempre più verde e sensibile alla natura che lo circonda. Mirabilandia, 85 ettari di estensione a due passi da Ravenna, guarda con attenzione all'ecologia traducendo in pratica iniziative rispettose dell'ambiente. Si va dalla raccolta degli oli vegetali nei ristoranti allo smaltimento differenziato di carta e plastica lungo i viali del parco, senza dimenticare i mangia bottiglie e novità dell'ultima ora, forse la più rivoluzionaria, l'adozione di alcuni scooter elettrici per il personale che vanno ad aggiungersi ai 40 mezzi sostenibili già in dotazione al parco giochi Ravennate. In un anno Mirabilandia ospita circa 2 milioni di visitatori, vengono a divertirsi e a passare delle belle giornate non solo su delle speciali attrazioni ma immersi in un vero e proprio giardino naturale. Questa vocazione all'ambiente e all'attenzione all'ambiente è una caratteristica che ci contraddistingue da quando 20 anni fa è iniziata la nostra avventura e non potrebbe essere altrimenti vista questa estensione naturale dentro la quale ci troviamo. Due esempi pratici sono costituiti dalla raccolta differenziata, non solo all'interno del parco a beneficio di tutta la nostra clientela ma anche all'interno degli uffici. Un altro esempio è dato dai diversi compattatori che sono dislocati all'interno del parco per poter raccogliere le bottigliette di plastica evitando che vengano disperse nell'ambiente. E ultima iniziativa coerente con questa nostra vena ambientalista è data dalle bighe elettriche che sono state messe in dotazione del personale del parco partendo dai parcheggi per potersi muovere rapidamente nel rispetto dell'ecologia. Con i mezzi elettrici presentati anche il parco di Mirabilandia fa suo il futuro e la rivoluzione che riguarda la mobilità delle persone. Abbiamo trovato in Mirabilandia un importante partner per diffondere la cosa più importante che non è esclusivamente un messaggio commerciale quindi di vendere un prodotto ma trasmettere una filosofia che andrà a rivoluzionare sicuramente quello che sarà la mobilità di tutti noi quotidianamente. Noi oggi abbiamo fornito dei mezzi a Mirabilandia sempre con l'obiettivo di trasmettere questa filosofia nelle persone convincendoli del fatto che oggi la mobilità elettrica non è un'illusione ma una realtà. Bene, non ci sono...